Se a Castelverrino, il paese più piccolo di questa tornata elettorale, voteranno tutti gli aventi diritto, per diventare sindaco saranno sufficienti una trentina di voti. Poco più di 130 abitanti e 5 candidati alla carica di primo cittadino, tre dei quali portano lo stesso cognome, Pannunzio, Carmen, Antonio e Mino. Poi ci sono Maurizio Misischia e Emiliano Massella. Sempre in provincia di Isernia, un caso rovesciato a Sant'Angelo del Pesco, fra i poco più di 350 abitanti, nessuno ha ritenuto di candidarsi sindaco. Il comune sarà retto da un commissario. In tempi di spending review, nessuno ha arricciato il naso. Sono oltre 2.000, tra tutte e due le province, i candidati ai nastri di partenza. Tolti i due comuni maggiori, Campobasso e Termoli, nel Medio Molise, sono Trivento e Riccia quelli dove il test politico assume un certo significato. Sotto la torre, il sindaco uscente Micaela Fanelli e da poco anche segretario regionale del Partito Democratico, Renziana Di Ferro. La sindacessa prova a fare il bis e di fronte, lei che ha battagliato per la parità di genere, troverà un'altra donna, Carmina Mancini. A Trivento torna in lizza Tullio Farina, già sindaco del centro Trignino e un passato tra i banchi di Palazzo Moffa sfiderà Domenico Santorelli in una partita tutta di area progressista. Scendendo verso il mare, tenta il bis a Campomarino Gianfranco Camilleri. I retroscena raccontano che lo avrebbero rivoluto alla guida del comune Frattura e Facciolla. Gli sfidanti sono Vincenzo Cordisco e Marcello Catena. Nel paese della Carrese si sfidano Antonio Zio, Giovanni Di Matteo e Massimo Caravatta. A San Martino in Pensilis si gioca anche la partita dei due big della politica locale, l'assessore regionale all'agricoltura e il capogruppo del PD Francesco Totaro. Per completare il quadro dello storico triangolo rosso della regione, quattro sono i candidati sindaco a Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio, Antonio Petruccelli, Giovanni Gianfelice e Enzo Rosati, quest'ultimo in passato assessore alla cultura della provincia di Campobasso. Riavvicinandoci alla provincia di Campobasso, sono tanti i comuni chiamati al voto nell'Interland del capoluogo. A Campodipietra tre le liste del dopocefaratti con i candidati sindaco Giovanni Barra, Nunzio Renzi e Giuseppe Notar Tomaso. L'industriale già sindaco del suo paese Antonio Lembo prova a riconquistare il comune di Mirabello, sulla sua strada troverà Luciano Di Biase. Anche Pino Di Nobile ha già guidato Ripalimosani da sindaco e ora ci riprova, lo sfidante è Giuseppe Di Bartolomeo. Chiudiamo questa prima carrellata con Ferrazzano, comune ormai nell'orbita del capoluogo, e sentinella geografica di Campobasso. I due candidati sindaco sono Antonio Cerio e Maria Assunta Baranello. Tra gli elettori di questo comune ce n'è uno di fama mondiale, è Robert De Niro, cittadino onorario del paese che diede i Natali al nonno. A Ferrazzano, pur citandolo in molte occasioni, non è mai tornato e, anche se qualcuno in cuor proprio ci spera, non tornerà nemmeno stavolta. Nelle prossime ore a Campobasso la Commissione elettorale di Palazzo San Giorgio completerà il primo esame delle liste per decidere sulla correttezza delle procedure e stabilire eventuali esclusioni.